In un mondo che cambia, la determinazione dell'apicoltore rimane inalterata. Ogni ostacolo è solo un altro passo verso il successo. Il miele non cade dal cielo, è il risultato di impegno, perseveranza e visione. Ed è per questo che è così prezioso. La natura può essere una nemica formidabile, ma sotto la guida dell'apicoltore si trasforma in una partner preziosa. Quando gli altri vedono la fine, noi vediamo un nuovo inizio. Ogni avversità è un'opportunità travestita. Il mondo può scommettere contro di noi, ma con determinazione e grinta, faremo in modo che ogni scommessa sia perduta. L'apicoltura non è per i timidi o per i deboli. È per coloro che vedono oltre le sfide, verso un futuro d'oro. Mentre il mondo si arrende alla natura, noi la sfidiamo, facendo di ogni sfida un trampolino di lancio verso la ricchezza. Ogni alveare ha una fortezza, ogni apre un guerriero, ogni goccia di miele una vittoria. E noi siamo i comandanti di questo esercito dorato. Mentre gli altri cercano di sopravvivere, noi miriamo a prosperare. L'apicoltura è la nostra chiave per sbloccare la ricchezza nascosta della natura. Il miele non è solo un prodotto, è una dichiarazione. Dice al mondo che nonostante tutto, siamo ancora qui, forti e determinati.